Renzi è cattivo, lui è un nuovo duce, dittatore che vuole sottomettere i valori democratici al gioco della sua voglia di potere, vuole stringere i valori costituzionali in una mano come farebbe un dittatore moderno. Cioè ieri, quando io ho assistito, ho seguito la diretta della Camera per quanto riguarda la discussione sulla legge elettorale sull'Italicum, ero basito, sconcertato nel vedere come ormai la politica non è altro che pura propaganda, è usata la diretta dal Parlamento, quindi dal braccio della Camera, per strumentalizzare un evento al fine di danneggiare un avversario politico ormai visto come nemico, non in più come avversario. Nel gioco della democrazia sono sani e giusti i dibattiti, le discussioni, gli scontri e le battaglie sui valori, trovo che però quando lo scontro non è nient'altro che strumentale, cioè finalizzato ad ottenere ragione, a distruggere il nemico, penso che il nemico abbia tutto il diritto di imbracciare le armi ed è quello che è successo. Il nemico di tutte queste forze politiche, cioè il cattivissimo Matteo Renzi, davanti alla richiesta delle minoranze di votare segretamente sull'Italicum, ha posto la fiducia che costringe i parlamentari della Camera a votare in maniera palese. Sì, lo so, dà fastidio a questi pusillanimi, a questi vigliacchetti, dover prendersi la responsabilità palese davanti al Paese di bocciare o promuovere una legge elettorale. Ma perché tutto questo è strumentale? E perché tutte le accuse a Renzi di essere un dittatore che cerca il potere nelle sue mani è falso? Prima di tutto perché è una legge elettorale che rischierebbe tantissimo di far vincere il Movimento 5 Stelle più che il Partito Democratico. Perché, per come è formulata la legge elettorale, se al primo turno non si raggiunge il 40%, vanno al balottaggio delle più grandi forze politiche d'Italia. In questo momento, secondo i sondaggi, sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Al balottaggio, le altre forze escluse al balottaggio, voteranno PD o Movimento 5 Stelle. Voi che pensate, ad esempio, che la Lega di Salvini, quelli che votano la Lega di Salvini, andranno a votare per il Partito Democratico? Io ne dubito, ma la cosa positiva di Renzi è che ha fatto una legge elettorale, non per garantirsi la vittoria, ma per garantire un vincitore, il che è molto diverso. Siamo stati logorati da 15 anni di Porcellum e dalla legge elettorale modificata dalla consulta, che ha costretto forze disomogenee ad allearsi con il Porcellum e, soprattutto, a creare delle alleanze forzatissime post-elezioni con la legge elettorale venuta fuori dalla consulta. Ora, al di là del principio che non è la consulta che deve fare la legge elettorale, ma il Parlamento, lasciamolo da parte, è giusto o non è giusto cambiare dopo 15 anni una legge elettorale? Non è una legge elettorale perfetta. Sono il primo a dire, ha tante cose che non mi piacciono. Io, personalmente, detesto la preferenza. Ci saranno il 40% di seggi attribuiti attraverso le preferenze? Va bene. Capisco che è una mediazione. Tra l'altro ha ascoltato la minoranza PD e la legge elettorale, che ricordiamolo è da marzo 2014 che è discussa, è stata praticamente, ha coinvolto la maggioranza dei parlamentari, che molti si sono rimangiati la parola all'ultimo momento, loro incoerenti che hanno votato una cosa al Senato ed ora fanno finta di nulla. Non Renzi che aveva detto io cerco la più larga maggioranza possibile e quello l'ha fatto. Ha coinvolto addirittura Movimento 5 Stelle, Selle e altri, perché il premio di lista e non la collezione era una richiesta al Movimento 5 Stelle. Quindi vedete questo dittatore cattivo che ha ascoltato tutti, ha mediato con tutti, pur di darci a noi una legge che garantisse la governabilità. Ripeto, non è una legge perfetta, è una legge frutto però di una mediazione, di una scrittura di regole tutte quante insieme. Quindi strumentalità. Ma si è notato come questa accusa di essere dittatore non sia così vera. E sapete dove si capisce? Nessuno, neanche il Movimento 5 Stelle, ha mobilitato la piazza. Ha mobilitato le persone. Vi ricordate quando il Movimento 5 Stelle saliva sui tetti per l'attentato e la democrazia? Il Movimento 5 Stelle sta facendo finta che non gli piaccia questa legge elettorale, perché sta godendo come una scrofa. E tant'è vero che non hanno mobilito... Vi ricordate Rodotà, Rodotà sotto il Parlamento? Non ce n'è una di Rodotà che sta facendo Rodotà sotto il Parlamento. La minoranza PD voleva impallinare Renzi col voto segreto dei vigliacchi, Renzi li ha sgamati, gli ha detto fate le cose alla luce del sole e poi vediamo. Una operazione perfetta. Io personalmente sono contro l'uso della fiducia. E sono anche contrario nel dire però che questi precedenti sono una legge fascista e la legge truffa. Diciamo che dal 1945 in poi le leggi elettorali saranno state quattro, non è che abbiamo mille precedenti, ok? Quattro, cinque leggi elettorali su cui una è stata messa la fiducia. Ora, non è che mi potete dire, eh, perché questa è una prassi istituzionale consolidata nel tempo, ma sono state veramente tre, quattro leggi elettorali fatte prima di questa qua. Non è che mi potete citare i precedenti. E comunque sempre nel potere del governo porre la fiducia sulle leggi, a meno che non ci sia una riserva di legge che dica, ad esempio, questa legge qui deve essere votata in questo metodo qui, quindi lì non si può intervenire. Quindi, non c'è dittatura, finalmente si arriva a una conclusione, oggi i parlamentari si prenderanno pubblicamente davanti al popolo le responsabilità di bocciare o non bocciare la legge. Renzi dà la possibilità anche alle minoranze di mandarlo a casa, se vorranno, ha legato con la fiducia una questione politica, una questione tecnica, io ne sono perfettamente felice, non apprezzo la fiducia sulla legge elettorale, ma mi rendo conto che la situazione, il contorno, ha portato a quella decisione lì. Renzi aveva detto, se chiedete il voto segreto io chiedo la fiducia, bastava non chiedere il voto segreto. Detto questo, questa sera ci sarà una live, un'intervista con l'autore di Gesù, che è un fumetto blasfemo-satirico, parleremo con il suo autore di politica, di satira, di libertà di espressione, anche di libertà di bestemmia a questo punto, visto che nel fumetto ci sono dei bei madonnoni forti. Sarà sicuramente una live interessata e potete iscrivervi qui sotto, qui sotto trovate la live, qui sotto trovate anche un videogioco su di me, dell'email of haters attack, e ultima cosa che non è ultima, ci sono degli amici che stanno facendo una bella campagna IndigoGo per realizzare un progetto di orto urbano, se potete far qualcosa, una donazione o girarlo magari un ingegnere, un architetto interessato, uno sponsor che vuole essere presente a una fiera comunque importante, si chiama ortocultura o qualcosa così, qui sotto trovate anche la campagna IndigoGo. Ciao a tutti, alla prossima.